Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. Alla mezza terme è stata fermata la moglie del presunto killer di Gregorio Mezzatesta. Ad oltre due mesi dal suo arresto continuano serrate le indagini sulla 32enne Marco Gallo, ritenuto il presunto killer di Gregorio Mezzatesta, il dipendente delle ferrovie della Calabria, ucciso la mattina del 24 giugno a Catanzaro mentre andava a lavorare. L'arresto del 32enne Lametino avvenne in un blitz nella sua casa di Falerna, condotto dai carabinieri la mattina del 31 luglio, a poco più di un mese dall'omicidio. Nella giornata di lunedì, invece, la polizia ha eseguito nuove perquisizioni in abitazioni legate al presunto killer. Si tratterebbe di un nuovo filone di indagine partito dalla procura Lametina, nel quale ci sarebbe già un fermo compiuto dalla polizia, quello della moglie di Marco Gallo. Il filone di indagine porterebbe ad un altro omicidio, quello di Francesco Berlingeri, 57enne, ucciso il 19 gennaio in Via Fiume davanti al suo negozio di ortofrutta. E' stato arrestato dalla Guardia di Finanza a Reggio Calabria un cittadino rumeno latitante e accusato di reati economici e finanziari. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso dalla Tribunale di Arad in Romania nei confronti di un cittadino rumeno nato nel 1953. L'uomo sottoposto a controllo da una pattuglia del nucleo di polizia tributaria mentre si trovava nella città di Reggio Calabria, risultato dalla consultazione della banca Datishengen in uso alle forze di polizia ricercato dalla 2014, poiché destinatario di mandato di arresto europeo per reati economici e finanziari commessi in Romania. L'uomo, quale amministratore di una società commerciale di diritto rumeno esercente l'attività di vendita di cereali, avrebbe nell'anno 2008 con il concorso di altri responsabili omesso di registrare nelle scritture contabili e dichiarare alle autorità fiscali le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale evadendo in tal modo gli obblighi tributari vigenti in Romania e causando un pregiudizio al bilancio dello Stato per un valore pari a oltre 2.000 leo rumeni, circa 480.000 euro. Per questi motivi nel 2014 è stato condannato a quattro anni di reclusione dalla Tribunale di Arad. Dopo le formalità di diritto è stato associato in stato di arresto presso la casa circondaliare di Reggio Calabria a disposizione del Presidente della Corte d'Appello Locale. Dei fatti è stato dato immediato avviso al competente ufficio del Ministero della Giustizia che curerà adesso i rapporti con il Stato membro richiedente, ossia la Romania, nonché alla divisione sirene della Direzione Centrale della Polizia Criminale e del Ministero dell'Interno. Dati preoccupanti quelli dell'Istat sul voto di scambio nell'Italia meridionale. Ascoltiamo il servizio. Presto gli italiani torneranno al voto e per quanto si parla tanto di legge elettorale c'è un tema molto delicato del quale si è occupato l'Istat nel report la corruzione in Italia e il punto di vista delle famiglie, ovvero il voto di scambio. Secondo i dati, il fenomeno sarebbe più frequente in caso di elezioni amministrative e raggiungerebbe i picchi più alti al sud nelle isole con il 6,7% e l'8,4% della popolazione interessata. Tutte le regioni del sud, fatta eccezione per il Molise, presentano tassi sensibilmente più elevati rispetto alla media italiana con il massimo del 9,7% in Basilicata. Al centro il tasso è del 3,1%, a nord-est dell'1,5%, a nord-ovest dell'1,3%. In cambio del voto sono stati offerti o promessi soprattutto favori o trattamenti privilegiati per il 34,7% dei casi, incarichi o posti di lavoro al 32,8% o anche denaro al 20,6%. Dati preoccupanti dunque e soprattutto in considerazione dell'avvicinarsi alla tornata elettorale per quello che dovrebbe essere un voto secondo la Costituzione, libero e segreto. E cambiamo argomento, l'amministrazione comunale di Cosenza sta provvedendo a far rimuovere in via lungocrati i chioschi ormai inutilizzati che avevano ospitato la manifestazione estiva di Lungofiume Boulevard. Finalmente a via lungocrati, alle porte della parte storica della città di Cosenza, in seguito alle nostre sollecitazioni e ai nostri servizi, l'amministrazione comunale attraverso la ditta incaricata sta provvedendo a rimuovere i chioschi che hanno ospitato la manifestazione estiva del Lungofiume Boulevard. L'operazione della loro rimozione è iniziata questa mattina come mostrano le immagini e gli operai hanno già smontato e rimosso la prima struttura. I chioschi, lo ricordiamo, erano diventati ricettacoli notturni saltuari oltre che ritrovo per tossicodipendenti. Inoltre erano stati oggetto di atti vandalici ed occupavano una gran parte della strada procurando anche non pochi problemi agli esercenti e ai residenti della zona. È stata siglata un'importante intesa fra la Camera di Commercio e la provincia di Cosenza a favore dello sviluppo delle imprese. Due istituzioni che collaborano per sostenere le imprese e per lo sviluppo economico del territorio anche grazie alle nuove tecnologie. È nato con questi obiettivi l'accordo fra la Camera di Commercio e la provincia di Cosenza che prevede l'apertura di uno sportello denominato Identità d'impresa e Marketing Territoriale che opererà nella sede dei due enti oltre che online e che affiancherà le imprese in diverse pratiche e tra queste l'elaborazione di un brand e la narrazione digitale tramite QR Code. Questo ci permette anche insieme di partecipare a dei bandi sia nazionale che europea avendo molte risorse umane in realtà alla provincia e ne abbiamo delle nostre. Questo è ancora sul Open Camera Cosenza, ancora sulla trasparenza, ancora quello che se le istituzioni si parlano insieme come abbiamo fatto con la regione, come abbiamo fatto con molti comuni, come abbiamo fatto con molti altri enti anche pubblici, ci permettono di stare insieme e di raccogliere di più le opportunità. Ecco, noi ci apriamo a tutte le istituzioni in modo che è solo un ente pubblico che paga e gli altri ne possono in qualche modo soffrire. È ancora un nuovo modo di fare le cose. La provincia di Cosenza continua con la sua politica di apertura. Noi probabilmente non abbiamo competenze dirette con le funzioni fondamentali anche su questo argomento ma vogliamo essere i rappresentanti del territorio e quindi vogliamo assumerci la responsabilità di essere anche punto di riferimento per coordinare meglio tutte le nostre potenzialità che ci sono in provincia di Cosenza e la Camera del Commercio che è un ente importantissimo, fondamentale, radicato sul territorio. Ecco, insieme sicuramente possiamo fare un buon lavoro al servizio di enti, al servizio di aziende, al servizio più complessivamente del territorio della provincia di Cosenza. Ed è prevista per fine ottobre l'apertura provvisoria del viadotto Cannavino. La riapertura definitiva del viadotto Cannavino sulla strada statale 107 Paola Crotone tarda ad arrivare. Infatti, in una riunione svoltasi questa mattina presso la prefettura di Cosenza i dirigenti dell'ANAS hanno confermato sì la riapertura del ponte di Cerico il 20 ottobre in entrambi i sensi di marcia per il solo traffico dei mezzi leggeri e dal 23 sarà data la viabilità anche agli autobus di linea mentre dal prossimo 30 ottobre per consentire la piena e completa maturazione dei calci e struzzi sarà consentito il transito anche ai mezzi pesanti ma una nuova chiusura parziale prevista per il prossimo mese di dicembre con senso unico alternato al fine di consentire la posa in opera dei giunti tecnici definitivi ancora in corso di lavorazione operazione che avrebbe dovuta essere realizzata in questo primo step di lavori lavori che a detta di ANAS saranno H24 in modo tale da terminare prima del periodo natalizio e cambiamo nuovamente argomento gli istituti alberghieri di tutta Italia si riuniscono a Vibo Valencia a partire da domani Vibo Valencia ospiterà un evento straordinario per l'intera regione si terrà qui infatti l'annuale meeting renaia rete nazionale istituti alberghieri che mette insieme oltre 130 istituti alberghieri delle varie regioni italiane il meeting nazionale renaia il cui programma è stato presentato ufficialmente dal preside dell'istituto alberghiero di Vibo Valencia Carlo Pugliese che farà da padrone di casa allo scopo di aprire un ampio confronto sui profili professionali in uscita previsti dal nuovo decreto ministeriale e del ruolo degli istituti alberghieri in un settore fondamentale per la formazione culturale, umana e professionale degli alunni e per l'economia dei territori italiani ricchi di storie, tradizioni e vocazioni in particolare dei settori enogastronomico e turistico con una straordinaria varietà di caratteristiche e di tipicità me lo chiedevano da anni ma io non avevo l'edificio e quindi non potevo accogliere un gruppo così consistente certo adesso per me è una grandissima felicità ma non per me personalmente ma perché io come dico spesso intendo che la mission degli istituti alberghieri non è solo quella di fare in modo che escano da questa scuola giovani preparati ad essere immessi immediatamente nel mondo del lavoro ma è anche mission degli istituti alberghieri promuovere il territorio in cui opera la scuola e le bellezze naturali i siti artistici i siti archeologici e principalmente ovviamente le risorse enogastronomiche va bene e abbiamo impostato il programma di questo meeting renaia proprio con queste finalità perché questa grande valenza valore di renaia perché renaia crea dei momenti di confronto come quello che ci sarà dal 18 al 20 ottobre in questa scuola sulle problematiche specifiche degli istituti alberghieri perché gli alberghieri sono degli istituti professionali ma sono molto ma molto più complessi di tanti altri istituti professionali perché ci sono i laboratori giornalieri e perché bisogna stare attenti a legare il profilo in uscita deve essere legato il profilo a quelle che sono le esigenze, le richieste del turismo di oggi e concludiamo con un ultimo servizio torna l'appuntamento con la partita del cuore a Castrovillari in provincia di Cosenza a Castrovillari ritorna la partita del cuore organizzata dall'associazione Cuore Solidale che da 16 anni si occupa di ascolto, accoglienza e solidarietà a scendere in campo quest'anno presso lo stadio Mimmo Rende di Castrovillari le squadre USD Gepinonetti, Carabinieri, Milan Club e Coggezza formata dai ragazzi del CAS di Castrovillari dopo 16 anni è come se fosse sempre il primo giorno naturalmente il nostro è una manifestazione che è rivolta alla solidarietà, all'accoglienza quest'anno abbiamo avuto il piacere di ospitare anche una squadra di ragazzi immigrati questo porta a educare la gente all'integrazione e alla solidarietà noi non abbiamo dei progetti nostri noi raccogliamo fondi per aiutare a realizzare i progetti di altre associazioni quindi in 16 anni abbiamo devoluto abbiamo devoluto a molte associazioni del territorio perché i nostri fondi, questi piccoli guadagni restano sul territorio di disabili, associazioni di volontariato puro quest'anno c'è il Movimento per la Vita al quale andrà l'incasso dei biglietti venduti per questa partita per organizzare questa partita ci vuole molto impegno non è facile da mettere tante teste insieme ma nonostante tutto ci siamo riusciti anche perché avere a che fare comunque con Colgezza e questa squadra dei ragazzi migranti abbiamo dovuto rispettare l'Iter ce l'abbiamo fatta, ce l'hanno fatta e vedo che c'è comunque tanta voglia da parte loro di inserirsi, di integrarsi in qualche modo noi faremo di tutto per poterli accontentare sia in questo campo sia in altre discipline sportive e anche per questa edizione è tutto io vi aspetto alle 20.45 per ulteriori aggiornamenti grazie per essere stati con noi